Tutto ribaltato. Il Tar di Ancona infatti ha accolto il ricorso presentato da Orgoglio Amaranto e sospeso il decreto del prefetto di Pesaro con cui veniva vietata la vendita dei biglietti per la partita di domenica ai residenti in provincia di Arezzo. Il giudice del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha anche stigmatizzato l'effetto punitivo del provvedimento ritenuto incongruo. I tifosi potranno quindi prendere parte alla trasferta senza alcuna restrizione e a breve verranno comunicate le modalità di acquisto dei tagliandi. Così come nel precedente ricorso vinto dalla società del Lecce marzo 2023, trasferta vietata e poi riaperta a Milano per la partita contro l'Inter, scrive Orgoglio Amaranto, anche per l'Arezzo adesso si aprono le porte del settore ospiti dello stadio di Prato. Per il Comitato dei Tifosi, che detiene l'1% della società sportiva Arezzo, questo è un risultato importantissimo, una messa in atto dei principi che lo muovono al fianco dei tifosi al fianco dell'Arezzo. La decisione di vietare la trasferta di Pesaro era arrivata al termine della riunione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e del Gruppo Operativo di Sicurezza, a seguito di quanto accaduto in occasione della gara Arezzo Spal del 23 ottobre scorso.